La scopertura dell'ultima cena di Vasari nella Basilica di Santa Croce, il simbolo della rinascita di Firenze a 50 anni dall'alluvione del 1966, commemorato alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella e degli Angeli del Fango, che nei giorni successivi alla tragedia arrivarono da tutto il mondo per dare una mano spalando tra i detriti. Mattarella è stato anche il primo a passeggiare sul Lungarno Torrigiani, altro simbolo di ripartenza dopo la ricostruzione seguita al crollo dello scorso 25 maggio, 5 mesi di lavoro ininterrotto per centrare l'obiettivo della riapertura entro l'anniversario dell'alluvione, poi la cerimonia ufficiale in Palazzo Vecchio per commemorare le vittime della tragedia e dare coraggio alle vittime di oggi, quelle del terremoto. Questo messaggio di incoraggiamento e di speranza oggi viene inviato da Firenze, che ricorda i giorni difficili dell'alluvione alle popolazioni dell'Italia centrale. Non siete soli, condivideremo la vostra ripartenza, insieme ce la faremo. Una giornata iniziata con il Consiglio Comunale straordinario nel Salone dei 500 dedicato all'alluvione, la presenza degli angeli del fango riuniti dopo mezzo secolo. Il premier Matteo Renzi, arrivato in Palazzo Vecchio a sorpresa, ha colto l'occasione per fare un annuncio. Abbiamo approvato il decreto legge che consentirà di semplificare le procedure per rimettere a posto il terremoto e noi diciamo da qui, da Firenze, che la chiesa di San Benedetto a Norcia tornerà a splendere nella sua bellezza, perché quella chiesa è un simbolo d'Europa. Tanti ricordi e racconti di chi nel 1966 arrivò per aiutare i fiorentini e salvare le opere d'arte dall'acqua e dal fango. Voi dovete immaginare una cosa che forse è inimmaginabile, l'acqua non era calma, l'acqua sfondò tutto, portone, serrande. Testimonianze indelebili nella mente di chi visse l'alluvione, diventate dopo i 50 anni patrimonio condiviso di tutti, fiorentini e non. No alla privatizzazione, difendiamo il lavoro, no a recapito, a giorni alterni. Con questi slogan centinaia di lavoratori di poste sono arrivati a Firenze per una giornata di lotte sciopero per la manifestazione nazionale contro la privatizzazione di poste italiane. sciopero proclamato dai sindacati SLC-CGL, SLP-CISL, FAILP, SAILP e UGL. Scelta quella della privatizzazione che secondo i sindacati lascia molti dubbi sul futuro dell'azienda perché potrebbe portare al taglio dei costi dei lavoratori e meno servizi ai cittadini. In Toscana i posti di lavoro a rischio sarebbero 1.000 e 20.000 in tutta Italia. Chiusure di uffici e chiusure del CMP di Firenze, ecco perché senza paura e mettendo nel silenzio gli uffici che sono in gran parte chiusi, si parla dell'80% di adesione sulle chiusure degli uffici, è il segnale forte al governo e all'azienda del no alla privatizzazione. Con la privatizzazione sicuramente poste italiane perde quella caratteristica di servizio pubblico che l'ha caratterizzata in tutto questo tempo, rendendola grazie al contributo dei lavoratori la grande azienda che in realtà in questi ultimi dieci anni è stato e ha portato grande profitto allo Stato. I problemi di poste vanno dal taglio degli uffici postali alla razionalizzazione del centro di smistamento di Sesto Fiorentino. I sindacati mettono in discussione anche i continui distacchi dovuti alla carenza di personale negli uffici e le precarie condizioni dei mezzi necessari alla consegna della corrispondenza. Altro problema è la consegna della posta a giorni alterni e la carenza del personale negli uffici postali. Tutto questo porta gravi ricadute sui lavoratori e sulla clientela. Era stato annunciato come un sabato bestiale ma nessuno si aspettava la guerriglia che vedete nelle immagini scoppiate alle 4 del pomeriggio in piazza San Marco nel centro di Firenze. Il corteo Firenze dice no contro il governo e la riforma costituzionale non era stato autorizzato dalla questura per la concomitanza con la settima edizione della Leopolda del premier Matteo Renzi. Ma gli organizzatori avvertiti solo alla vigilia hanno voluto scendere in piazza lo stesso ed è finita così. Centri sociali, universitari, comitati per il no e vittime del salvabanche in mezzo al lanci di bombe carta, fumogeni e quintali di ortaggi. Scontri fra poliziotti e manifestanti, feriti, danni alla città blindata per ore. Una situazione di vistoso contrasto con l'atmosfera della Leopolda 2016. Per volere di Renzi tornata alla formula iniziale, meno VIP e più gente normale sul palco. Tema centrale la riforma costituzionale ma anche Casa Italia, il piano nazionale per la messa in sicurezza da terremoti e alluvioni. E così la Leopolda VII e adesso il futuro, lo slogan, ha preso il via nel cinquantesimo anniversario dell'alluvione parlando di protezione civile. Presenti in sala molti angeli del fango e amministratori pubblici, volontari e cittadini delle zone terremotate. Poi un sabato mattina con i tavoli di lavoro su temi vari insieme ai ministri Poletti, Pado, Ampinotti, Boschi e Calenda e il pomeriggio aperto da Matteo Renzi e da un suo entusiasta sostenitore. L'imprenditore Brunello Cucinelli che ha illustrato il suo progetto per la ricostruzione di Norcia. Subito dopo sono entrati in scena la ministra delle riforme Maria Elena Boschi e quattro costituzionalisti per rispondere alle domande del pubblico in sale e sui social e smontare, ha detto Boschi, le bufale sulla riforma costituzionale. Nel tardo pomeriggio il popolo della Lopolda è stato informato degli scontri avvenuti in centro dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, che è salito sul palco, ha condannato la violenza fra gli applausi. Domenica alle 13 il gran finale con Matteo Renzi che ha già annunciato per l'occasione l'intenzione di togliersi parecchi sassolini dalle scarpe. Il presidente del consiglio Matteo Renzi e il sindaco di Firenze, Dario Nardella, hanno firmato in Palazzo Vecchio il patto per Firenze che mette a disposizione del comune 680 milioni di euro. Di questi 110 milioni sono nuovi, cioè mai previsti da vecchi finanziamenti. Presenti alla firma anche i sottosegretari Claudio De Vincenti e Luca Lotti. Le risorse saranno destinate alle tranvie, alla videosorveglianza e alle periferie. Il patto, ha detto Nardella, conferma anche gli impegni presi per l'area metropolitana. Conferma l'impegno sull'aeroporto, conferma l'impegno sugli impianti legati al sistema dei rifiuti, penso all'impianto del termovalorizzatore, conferma ovviamente l'impegno sulle grandi infrastrutture di promozione turistica o fieristica come la Fortezza da Basso. Le risorse stanziate a livello nazionale ammontano a 2 miliardi e 200 mila euro. Per il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, la mobilità è un settore prioritario in cui investirle. Perché noi dobbiamo mettere in moto un sistema in cui i pendolari possono muoversi con il sistema pubblico e con carrozze di qualità. Quindi noi stiamo investendo su questo. Ma non è pensabile che l'Italia abbia meno chilometri quadrati di metropolitane di Madrid. Il patto per Firenze fa parte di un piano di accordi già avviato dal governo per mettere risorse a disposizione anche di altre città italiane. 50 anni fa l'alluvione non colpì solo Firenze ma tutta la Toscana causando 47 vittime e danni ovunque. Per commemorare quei tragici momenti il Consiglio regionale ha deciso di intitolare al Pegaso la propria sede nei palazzi panciati Chicovoni a Firenze. La targa è stata scoperta durante la cerimonia ufficiale in ricordo dell'alluvione alla presenza del presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni e di molti consiglieri. Gianni ha ricordato l'alto valore simbolico che il Pegaso ha per la Toscana. Il Pegaso che sarà il senso di un palazzo che vuole essere il rapporto con cui la regione toscana intende intervenire quando la gente è in stato di disagio e di bisogno. Le iniziative per ricordare l'alluvione e le vittime toscane comprendono anche una mostra fotografica dedicata al lavoro svolto dalla protezione civile in casi di calamità naturali e poi la consegna delle onorificenze alla memoria di Riccardo Marasco che cantò con ironia il dramma dell'alluvione e di Piero Bargellini, sindaco di Firenze, quando l'Arno tracimò a ricevere la targa i figli di Bargellini, Antonina avvolta nella sciarpa che il padre era solito indossare e Mauro che così ricorda il padre. Attraverso la radio, perché non c'erano i telefoni, attraverso la radio cercava di mandare dei messaggi ai fiorentini che mantenessero la calma che si stava cercando di fare il possibile. Ricordi e testimonianze a cui è stato ricordato durante la cerimonia ora dovranno seguire le opere di messa in sicurezza dell'Arno per evitare il ripetersi di drammi come quello del 66. Leopold a 7 di governo con tutti i ministri schierati, Leopold a 7 della sfida delle sfide in nome della visione renziana del futuro, dei figli e dell'orgoglio nazionale. In un derby esasperato, modernità contro vecchiume, domani contro nostalgia, speranza contro pianistei, in estrema sintesi, si contronò al referendum costituzionale. Di fronte allo zoccolo duro di qualche migliaio di Leopoldini, VIP e non VIP, il presidente del Consiglio e il segretario del PD Matteo Renzi ha giocato il tutto per tutto. Preceduto da un breve blackout che ha fatto piombare la Leopolda nel buio un attimo prima del suo ingresso sul palco, saranno stati da Leme Travaglio, ha commentato il pubblico, Renzi ha iniziato dal terremoto e dagli sfollati per parlare di ricostruzione come atto politico, con una novità. Diciamolo qui con forza, a tutti i sindaci d'Italia, tornate a progettare scuole perché tutte le spese per l'edilizia scolastica le considereremo fuori dal patto di stabilità, che piaccia o non piaccia a Bruxelles. Poi Jobs Act, l'economia e la cultura come motore di sviluppo, le politiche sociali, la semplificazione ma soprattutto la riforma costituzionale, citando gli scontri avvenuti nel centro di Firenze durante una manifestazione antigoverno e poi rinno al referendum. Quando in piazza San Marco si dice di voler difendere la Costituzione, ci si incappuccia, si prende un cartello stradale, si cerca di sfasciarlo in testa ai poliziotti, non si sta difendendo la Costituzione, si sta offendendo l'istituzione. Ma è soprattutto contro gli avversari politici che Matteo Renzi si è scatenato, Berlusconi che lo accusa di dittatura, Grillo che non ha studiato la riforma ma soprattutto la sinistra PD e la vecchia guardia del partito, il fronte tutto interno del no. Sostanzialmente gli stessi che 18 anni fa decretarono la fine dell'ulivo perché non erano loro a comandare la sinistra, stanno provando a decretare la fine del partito democratico perché hanno perso un congresso. Nel finale Matteo Renzi ha chiamato il popolo della Leopolda alla mobilitazione per il referendum del 4 dicembre. 28 giorni al lavoro tutti insieme, cambiamo l'Italia e portiamo con un sì i nostri figli a credere nel futuro. La folle corsa è iniziata nella centralissima via De Benci a Firenze a due passi da Santa Croce. Un'auto è piombata come un missile su una bicicletta cartocciandola e falciando l'uomo in sella con il figlio di 20 mesi. Poi ha proseguito senza rallentare centrando un taxi che per la violenza dell'urto si è rigirato su se stesso e ha finito la corsa colpendo altre due auto, una delle quali è stata spinta nella vetrina di un negozio. Sette in tutto i feriti, ad avere la peggio è stato il ciclista di 41 anni ricoverato con un trauma cranico. Il bambino ha fatto un volo di diversi metri riportando ferite soprattutto al volto. Nel lui né il padre sono in pericolo di vita, feriti nella catena di schianti e anche il tassista e il passeggero che era con lui, il conducente dell'auto finita nel negozio e un pedone. La strada è stata chiusa per i rilievi della polizia municipale che si sono svolti in mezzo alle lamiere e vetri in frantumi alle chiazze di sangue sull'asfalto. Il conducente, un uomo di 75 anni, ha detto che il piede incastrato nell'acceleratore gli ha impedito di frenare. La sua posizione, così come tutto il materiale che si trovava a bordo dell'auto, è al vaglio degli inquirenti. Nei confronti dell'uomo sono stati disposti i controlli per verificare la presenza di alcol e droga nel sangue. L'eccezionale scoperta scientifica del secolo, quella delle onde gravitazionali sulla quale anche la Toscana ha fatto la sua parte, con l'osservazione del fenomeno condivisa nel rilevatore di increspature spazio-temporali Virgo di Cascina, è stato l'argomento della lezione inaugurale di Pianeta Galileo. Il progetto di divulgazione promosso dal Consiglio regionale è giunto alla tredicesima edizione, sempre col filo rosso, di incoraggiare la cultura scientifica e la sua divulgazione come base del sapere ed elemento di ogni comunità. Penso che sia un'iniziativa di divulgazione della scienza fra le più feconde e importanti, perché si va a coinvolgere 129 istituti nella realtà fiorentina, toscana, delle 10 province e contemporaneamente 272 saranno gli insegnanti coinvolti, docenti coinvolti. Pianeta Galileo vede l'apporto delle tre università toscane e la collaborazione dell'ufficio scolastico regionale. Lo scopo è avvicinare sempre più i giovani al mondo della scienza, della ricerca e delle sue applicazioni in modo semplice, diretto e comprensibile, stimolando curiosità e spirito critico. C'è un luogo in più a Firenze per immergersi nelle letture e nello studio, in ampi accoglienti sale, che ospitano oltre 160.000 libri, in buona parte donati da importanti famiglie toscane. È la nuova biblioteca della Toscana, ospitata al pianterreno di Palazzo Cerretani e inaugurata dal presidente del Consiglio regionale Eugenio Gianni e dall'assessore alla cultura Monica Barni. Una biblioteca è qualcosa di importante, è uno spazio prestigioso, il Palazzo Cerretani a Firenze, vicino alla stazione, in un luogo di grande possibilità, diciamo di frequenza da parte dei cittadini come degli studiosi, 160.000 libri, 20.000 riviste, fondi importanti a cui si accede al libro che toccavano Oriana Fallasci o Mario Luzzi, è un motivo di grande soddisfazione. La nuova biblioteca è stata intitolata al Granduca Pietro Leopoldo, colui che nel 1786 portò la Toscana ad abolire per prima la pena di morte. L'inaugurazione, a poco più di un anno dall'avvio del progetto, è motivo di grande soddisfazione da parte dell'assessore regionale Barni. Io ritengo che sia un investimento importantissimo da parte della Giunta regionale l'aver recuperato questi spazi e aver messo insieme tre diverse biblioteche, la biblioteca della Giunta, quella del Consiglio e quella dell'identità toscana. Un patrimonio librario notevolissimo che andrà a disposizione di tutti i cittadini della Toscana. Mi sembra che questa inaugurazione sia perfettamente in linea con le politiche che noi stiamo facendo sui temi del patrimonio bibliotecario e della lettura. Un'opera costata circa un milione e mezzo di euro, che durante il restauro ha portato alla scoperta nei sotterranei del palazzo di resti archeologici di età etrusca e romana. Giornata fiorentina per il segretario nazionale della Lega Nord, Matteo Salvini, è arrivato nel capoluogo toscano per presentare la manifestazione della Lega per il no alla riforma costituzionale di sabato 12 novembre che dalle 15 riempirà Piazza Santa Croce. Prima tappa a Palazzo Borghese dove Salvini ha incontrato le realtà produttive e artigiane di Firenze e poi conferenza stampa con i giornalisti per parlare della manifestazione. Una piazza aperta a tutti quelli che credono nel no, ha sottolineato il leader del Carroccio, anche a Beppe Grillo, Massimo D'Alema e Berlusconi. Mentre la Leopolda urlava fuori, 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 noi gridiamo dentro e guardiamo al futuro dell'Italia, quindi chiunque voglia portare la sua testimonianza sabato è il benvenuto, parlerà il professor Becchi che era il cosiddetto ideologo dei 5 Stelle, però ci sarà, io sono ben contento che ci sia. Dopo la guerriglia di sabato scorso per la manifestazione non Renzi e anche per quella della Lega è stata annunciata un'altra contro-manifestazione. Tutto a posto, sarà una giornata tranquilla, se ci sarà qualche perditempo dei centri sociali con idee malsane verrà tenuto a bada. Poi Matteo Salvini ha fatto una visita ai militanti della Lega tra selfie e autografi con l'appello ad andare in piazza il 12 novembre. Ultima tappa in Consiglio regionale per salutare i consiglieri della Lega ed è entrato in aula augurando buon lavoro a tutti. Qua c'è il gruppo della Lega che è il gruppo più forte di opposizione, si è vinto ad Arezzo, si è vinto a Grosseto, si è vinto a Cascina e quindi sono orgoglioso di come la Toscana sta rispondendo e si sta risvegliando. Io penso che Renzi dalla sua ex città sabato avrà una brutta per lui e una bella per noi sorpresa. Una gara per la gestione dei rifiuti da 3 miliardi e mezzo di euro costruita su misura per far vincere un raggruppamento di imprese ben preciso ritagliando anche un bel gruzzolo come contropartita. È questa l'accusa che la procura di Firenze muove ai sei indagati nell'inchiesta perturbativa d'asta denominata Clean City. La gara in questione fu bandita dal lato rifiuti Toscana Sud nel 2010 per affidare a un unico gestore la raccolta dei rifiuti nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto per 20 anni e fu aggiudicata tre anni dopo al raggruppamento di imprese Sei Toscana, di cui era società mandataria la Siena Ambiente. Dopo due anni di indagini è finito agli arresti domiciliari il direttore generale dell'ato rifiuti Toscana Sud Andrea Corti, il cui ruolo è ritenuto centrale. Interdetti dai pubblici uffici l'amministratore delegato di Sei Toscana Eros Organni, quello di Siena Ambiente, Marco Buzzichelli e un avvocato fiorentino. Le indagini hanno scoperto, hanno fatto scoprire una assoluta comunanza di interessi fra tutti gli indagati che rivestivano ruoli diversi, chi gestiva come ente la gara, chi gestiva come società incaricata dall'ente la gara e chi invece poi si è giudicato la gara stessa. Secondo gli inquirenti il direttore generale dell'ato avrebbe concordato il bando di gara con gli altri indagati durante più di 40 incontri puntigliosamente riportati nella sua agenda personale, inserendo nel testo clausole vessatorie per scoraggiare eventuali concorrenti e spianare così la strada all'aggiudicazione a Sei Toscana poi avvenuta. Come contropartita il direttore generale dell'ato avrebbe incassato illecitamente dalle imprese vincitrici 380 mila euro contabilizzati come consulenze e collaborazioni fittizie. Proidi che sono stati a volte mascherati anche con l'interposizione di soggetti terzi quali per esempio anche alcune società riconducibili alla moglie dell'indagato. Per quanto riguarda gli ultimi due indagati, l'ex presidente di Siena Ambiente ed ex parlamentare di S Fabrizio Vigni, dimessosi nel marzo scorso e un altro avvocato fiorentino, pur ritenendoli pienamente coinvolti, il GIP non ha ritenuto necessaria l'adozione di misure restrittive. Stop alla costruzione del nuovo termovalorizzatore di case Passerini alle porte di Firenze. A imporre l'alta è stato il Tar della Toscana che ha annullato l'autorizzazione rilasciata dalla città metropolitana di Firenze per dare il via ai lavori, accogliendo il ricorso presentato dalle sigle ambientaliste, WWF Italia Nostra Forum Ambientalista, insieme al comune di Campi Bisenzio e a quello di Sesto Fiorentino che si è aggiunto in seguito. Nessuna contestazione da parte dei giudici al luogo previsto per l'inceneritore, cioè case Passerini. Il Tar ha ritenuto legittima però la contestazione sul mancato coinvolgimento del comune di Sesto nella pianificazione dell'opera. A questo, per i giudici, si aggiunge un'altra irregolarità, cioè la mancata realizzazione del bosco di 30 ettari previsto come opera di compensazione dell'inceneritore. La sentenza ha fatto esultare gli ambientalisti, il comitato locale delle mamme no inceneritore e il sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi, che del no al termo valorizzatore ha fatto il proprio cavallo di battaglia vincente alle elezioni. Non si pensi, ha detto Falchi, che per arrivare alla costruzione dell'impianto sia sufficiente rifare da capo la procedura. I giudici hanno detto che il comune di Sesto, con i suoi strumenti urbanistici, doveva essere coinvolto e questo dovrà avvenire anche in futuro. Scorporare dal patto di stabilità il cofinanziamento regionale per gli investimenti europei e garantire così un futuro alle politiche di coesione. È quanto è tornato a chiedere a Bruxelles il presidente della regione toscana Enrico Rossi intervenuto in Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento Europeo in qualità di vicepresidente della Conferenza delle 150 regioni marittime e periferiche d'Europa. Rossi ha sottolineato che è una richiesta di flessibilità perché se l'Europa togliesse dal patto di stabilità gli investimenti, le regioni potrebbero spendere 80 milioni in più e con questo creare lavoro, modernizzare e sviluppare meglio le regioni. Altra richiesta è quella di non togliere i fondi strutturali e sostituirli con le politiche di finanziamento che fa la Commissione Europea come il piano Juncker. Noi siamo disponibili a dare il nostro apporto, a ragionare come regioni e siamo disponibili anche a vedere se si può far convergere queste risorse anche con criteri di premialità verso gli obiettivi strategici di Europa 2020 relativi all'occupazione, al clima, alla ricerca e sviluppo, all'istruzione, alla lotta alla povertà. Prevedendo così, come ha sottolineato Rossi, che quelle regioni che mettono più risorse possono avere maggiore accesso ed essere premiate. In questo senso è fondamentale che dal patto di stabilità vengano sottratte le quote di cofinanziamento nazionale e regionale perché consentirebbe tutto questo di aumentare gli investimenti e in definitiva di aumentare l'occupazione in Europa, ciò di cui c'è estremamente bisogno. La società incaricata della costruzione dell'impianto di case Passerini, Cutermo, ha annunciato che ricorrerà al Consiglio di Stato contro il pronunciamento con cui i giudici amministrativi hanno annullato l'autorizzazione della città metropolitana a costruire l'impianto, accogliendo i ricorsi di Italia Nostra, WWF, Forum Ambientalista e dei comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino. Il presidente di Cutermo, Giorgio Moretti, ha detto che la società impugnerà entrambe le motivazioni della sentenza, cioè il mancato coinvolgimento del comune di Sesto nella copianificazione dell'area e la mancata realizzazione del bosco di 30 ettari previsto come opera di compensazione dell'inceneritore, due contestazioni che per Moretti non mettono in discussione la legittimità dell'impianto e della sua sede a case Passerini. Come dice il Tar, deve essere fatto, deve essere fatta a case Passerini e debbono essere fatti i boschi della Piana. L'obiettivo è ottenere la sospensiva dell'annullamento del Consiglio di Stato prima che vadano persi gli 80 milioni di euro di incentivi previsti, per questo i tempi dovranno essere serrati. Si proceda in modo celere, io penso che non si possa più aspettare, anche nel rispetto dei cittadini, delle comunità e dei soldi che sono stati spesi, non si possa più aspettare altro tempo. Intanto il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, incassa la vittoria visto che il ricorso presentato dal Comune è l'unico ad essere stato accolto nella sua interezza. Io sto a quello che ha deciso il Tar e il Tar ha deciso che per quelle motivazioni l'ha bloccato l'autorizzazione, quindi l'autorizzazione è stata annullata, quindi ad oggi è tutto fermo e si deve ricominciare da capo. La palla ora passa al Consiglio di Stato. Una galassia di imprese a cui l'azienda madre, Fiorentina, è specializzata in pulizie e facchinaggio, subappaltava i lavori a prezzi che non lasciavano spazio alla concorrenza. Questo è il redditizio sistema messo in piedi da un fiorentino e da tre napoletani arrestati dai finanzieri di Pontassieve al termine dell'operazione Rosa dei Venti, che alla fine ha portato alla luce un ammanco al fisco di 107 milioni di euro. Frode fiscale e bancarotta fraudolenta le accuse. Il meccanismo era semplice, le imprese in subappalto, 38 in totale, erano affidate a prestanome che non versavano contributi né imposte e dopo aver accumulato debiti trasferivano l'attività nel napoletano per poi fallire e sparire nel nulla. Un sistema scoperto anche grazie ai nomi esotici scelti per le imprese. Sceglievo i nomi presi dalla manieria perché Deus, ex macchina dell'organizzazione, un appassionato velista, quindi a lui piaceva dare questi nomi di part barche o part di barche o di venti appunto alle società. Le perquisizioni sono state eseguite tra Firenze, Napoli, Parma, Verona, Viareggio e Pistoia e hanno portato al sequestro di auto, immobili, denaro e quote societarie per 18 milioni di euro. Tra i beni sequestrati è anche un noto ristorante fiorentino, 15 in tutto gli indagati al termine delle indagini che per il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo hanno messo in luce un tipo di frode fiscale particolarmente insidioso e sfuggente. E' molto ricorrente il ricorso alla creazione di società fantasma su cui poi viene riversato tutto il peso e le cattive società e poi non si recupera nulla. Le indagini sono durate tre anni. Dopo il fulmine piombato sulla regione con l'inchiesta per corruzione turbativa d'asta nella maxigara per la gestione dei rifiuti nell'atto Toscana Sud, il presidente della regione Enrico Rossi ha annunciato la presentazione di una proposta di legge per istituire un atto unico in Toscana e la creazione immediata di una commissione d'inchiesta regionale. Vogliamo capire se l'eventuale manomissione della gara non abbia avuto poi influenza negativa sulla qualità del servizio ai cittadini. E' una risposta questa che dobbiamo dare. Se risulteranno cose negative ovviamente ne parleremo con i sindaci. Rossi insieme al segretario regionale del PD Dario Parrini e al sindaco di Firenze Dario Nardella hanno deciso di andare avanti uniti sulle questioni aperte dell'aeroporto, del trasporto pubblico locale e dell'alta velocità. Sul tunnel TAV a Firenze però Rossi ha posto una condizione. Vogliamo anche capire se il passante non è un bypass per la regione quindi chiediamo, siamo orientati a chiedere che si faccia comunque una fermata dell'alta velocità sullo stesso passante. Poi c'è lo stop del TAR al nuovo termovalorizzatore. Su questo, ha detto Rossi, la prima mossa aspetta alla società incaricata di realizzare l'impianto che peraltro ha già annunciato la presentazione di un ricorso al Consiglio di Stato. Sull'aeroporto Rossi ha spiegato di attendere una rapida conclusione della valutazione di impatto ambientale nazionale mentre per il TPL la regione sta decidendo la strategia più rapida per garantire ai cittadini toscani il nuovo gestore del servizio.